Roberto Piazza al termine della partita, una vittoria 3-0 ma soprattutto una gran vittoria, una partita giocata come vuole Roberto Piazza. No, non ancora come vorrebbe Roberto Piazza, una gara comunque giocata bene, con attenzione, con cattiveria e fin dai primi punti, perché il secondo scambio, me lo ricordo molto bene, è durato sei attacchi, tre per parte, per cui una partita giocata con l'intento micidiale di non voler gettare all'ortiche nulla. Piccoli passi in avanti, anzi grandi passi in avanti dall'inizio della stagione, si era detto, bisognava aspettare, i passi in avanti stanno arrivando. Piccoli passi in avanti, è giusto, dobbiamo crescere ancora tanto in alcuni fondamentali, ma la fiducia è quella che noi lo possiamo fare, io ho fiducia in questa squadra, altrimenti non l'avrei scelta, ho fiducia che questa squadra possa fare molto bene, i giocatori secondo me oggi hanno interpretato molto bene il match. Grazie a tutti, grazie a tutti.